Ce ne serve anche un'altra, quello della capitale di Porto. Abbiamo con noi sotto terreno di Vascello, Alessandra, Paolo, un applauso per te. Riporto i saluti del nostro direttore marittimo, capitato di Vascello, di Pasancinio, il quale ha sempre collaborato in maniera attiva con le riviste che divulgano in maniera responsabile notizie che abbiano come tema principale in mare e tutte le sue molteplici implicazioni. La stampa può essere sicuramente d'ausilio a quelli che sono i nostri compiti istituzionali, quindi ambiente marino, sicurezza della navigazione, attività turistico-recreative che si svolgono sul tema di mare ultimo. E nulla, vogliamo un vento a questa rivista che possa trovare il giusto spazio e il giusto successo. Grazie.